Prefazione piccola 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 Vi farò vedere i video e le foto che ho fatto durante quest'ultimo di carnevale Che è venuto un combo ultimo di carnevale a festa della donna Quindi c'erano persone con in mano la mimosa A me non me l'ha fatta nessuno Camera man Non mi ha regalato niente il camera man Perché me l'ho postato giù? Dai fai venire il mal di mare povere ragazze Quindi vi saluto, un bacio e buon divertimento Ciao 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 è lì sopra 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 è lì sopra